Buongiorno, ringrazio voi giornalisti che siete intervenuti a questa nostra richiesta, ringrazio anche se so che non c'è Giuseppe, non è arrivato ancora, comunque noi stiamo qua a fare questa conferenza per far capire a un pochettino a tutti, non soltanto al dottor Walter Tacconi ma a tutti che noi la faccia ce la mettiamo sempre sia nel bene e in particolare nel male, infatti molte volte leggo sui social determinate cose contro la curva e io essendo il più vecchio e il meno giovane vi dico che noi queste cose qua non le abbiamo mai fatte noi ci abbiamo messo sempre la faccia, abbiamo difeso sempre questi colori perché per noi e anche per voi e per tutti sono molto importanti. Quindi in questo momento colgo l'occasione proprio per avvertire queste persone che non si devono permettere di invangare in nome dei ragazzi della curva e di tutti perché fanno grossi sacrifici per seguire l'Avellino, per difenderla in tutta Italia. Quindi non vi permetto a nessuno, se avete qualcosa sapete dove stiamo noi, potete pure dircelo in faccia e nascondetevi dietro a una tastiera, non è giusto questo perché noi facciamo tante cose, oggi il calcio è cambiato, non è più il calcio di una volta e qualcuno, un vecchio di cose che ho visto qua lo sa che è cambiato il calcio io insieme ad altri amici, insieme all'amico Cadello e insieme ad altri ci abbiamo la diffida e abbiamo passato dei guai per difendere l'amore per questa squadra, per questa maglia, per quesizione a casa soldi che se ne vanno presso gli avvocati. Quindi non permetta a nessuno di voi di invangare in nome nostro perché noi siamo persone pulite, persone che solo la passione, abbiamo questa passione per questa maglia e per questi colori, la portiamo sempre avanti e non ci fermarà mai nessuno. Poi al signor Taccone che io un sacco di volte l'ho stimato per quello che ha fatto, per quello che ha dato io gli dico questa parola, noi la faccia, dottor Taccone ce l'abbiamo sempre messa non ci siamo mai nascosti, abbiamo avuto sempre un colloquio con lui, sempre con persone civile sempre nel massimo rispetto, però noi, che dopo continuerà l'amico Frank, noi in questo momento non vogliamo questo personaggio, è un personaggio, non lo conosciamo, però non so che tipo di personaggio è quindi non lo vogliamo, noi vogliamo la trasparenza, vogliamo anche che lui esca sempre per televisione e tranquillizzi i tifosi, i tifosi vogliono la trasparenza, perché i tifosi amano questa maglia e amano questi colori. Passo la parola a Frank Benissimo. Franco vi ha già ringraziato tutti mi stai impallando però non va bene Franco vi ha già ringraziato tutti e è doveroso da parte mia ringraziarvi per essere qui perché riteniamo che comunque il calcio è cambiato e forse qualche comunicato che facciamo non basta stiamo facendo qualcosa di particolare, una violenza a noi stessi perché per me stare davanti alla telecamera, interrompere la mia giornata di lavoro è abbastanza faticoso e mi emoziona molto, anche perché non sono abituato e non sono portato a fare queste cose vogliamo fare delle precisazioni come diceva Franco le parole del dottor Taccone non ci sono andate proprio giù ma non ci sono andate giù per dei semplici motivi riteniamo che se uno convoca una conferenza stampa l'italiano mi aiuta e mi dice che è una conferenza solo per gli addetti e non per i tifosi se uno convoca una conferenza stampa dalla sera al mattino e ci invita verso le ore 22 per le ore 9.30 sinceramente o ignora che noi abbiamo una vita privata e lavoriamo oppure pensa che in pratica noi lucriamo forse sull'Oest Avellino e viviamo di questo noi purtroppo lavoriamo per cui alle 9.30 se ci vuoi invitare a una conferenza stampa o ce lo dici qualche giorno prima oppure se vuoi la nostra presenza inverti la conferenza stampa del mattino la che faranno Avellino e alle ore 18 ci invidi tutti e noi veniamo senza nessun tipo di problema questo è per essere diciamo per fare una precisazione sull'incontro e sulle modalità degli incontri se uno si vuole incontrare e vuole un confronto con la gente un modo lo trova se uno mette difficoltà il modo vuol dire che non lo vuole trovare a questo un aspetto negativo è che nel momento in cui tu fai una conferenza stampa e fai un monologo chiedi ironizzando di far venire o far entrare i ragazzi della curva alludendo e facendo capire non sono venuti non hanno accettato il confronto questa per noi si chiama istigazione alla violenza significa mettersi contro una curva istigare la gente che è già stanca dai suoi modi di fare però noi abbiamo purtroppo un po' di cervello e non cadiamo in certi tranelli noi abbiamo deciso che nei confronti del signor Tercone ci sarà una contestazione dura decisa ma civile non ci interessa minimamente in pratica entrare in diatribe particolari perché lo abbiamo sentito anche dire il figlio è stato minacciato se il figlio è stato minacciato lui deve andare in questura alla Dicos e va a minacciare e va perdonatevi vi chiedo scusa e va in pratica a denunciare chi lo minaccia noi abbiamo deciso la nostra strada che è quella di una contestazione dura decisa ma civile noi non dobbiamo tirare i calci a nessuno io personalmente non ho mai tirato un calcio a un presidente figuriamoci se lo voglio tirare a una persona anziana o figuriamoci se lo voglio tirare al figlio non abbiamo nessun interesse a fare questo e lui non ha il diritto e il dovere neanche di in pratica offendere una piazza e di farci passare come degli incivili come gente che aggredisce altre persone perché vuole nascondere tra virgolette il suo operato un operato che viene ormai diciamo criticato aspramente da tutti quanti altro aspetto che riteniamo in pratica importante è quello in pratica di metterci la faccia come diceva Franco noi ce la mettiamo sempre la faccia ora ci state riprendendo e purtroppo di questa curva che portiamo avanti con qualche sacrificio ci sono solo tre facce siccome io sono un buono di carattere sono veramente un ragazzo di cuore Franco lo può testimoniare pure Marco no io al signor Taccone gli voglio far vedere tutte le facce della curva e tutte le facce della gente che lo contesta per cui lo invito a un incontro pubblico come abbiamo noleggiato questa sala noleggeremo la sala più grande del De La Ville e faremo un bel incontro pubblico così lui potrà vedere le nostre facce che già conosce e le facce di tutti quanti gli altri che vogliono parlare con lui lui sarà a disposizione visto che parla di faccia e di conseguenza suppongo abbia anche le palle di metterci la faccia e di venire a un incontro pubblico con giornalisti liberi di fare tutte le domande che vogliono e tifosi e ultras che vogliono fare tutte le domande lo aspetto lo aspettiamo a braccia aperte ci mancherebbe noi vogliamo questo lui vuole vedere la mia faccia quella di Franco di Marco di Cadello no lui deve vedere la faccia di tutti ed è giusto che lui la vede per questo motivo avevamo in pratica invitato anche lo Sluo in modo che si potesse fare portavoce di questo incontro che vogliamo creare incontro pubblico precisiamo una cosa la sala la paghiamo noi non vogliamo in pratica diciamo incidere negativamente sulle casse dell'OS Avellino per cui la sala la paghiamo noi non si deve preoccupare di niente compriamo anche i pasticcili compriamo l'acqua non ci sono questi problemi facciamo una colletta come abbiamo sempre fatto fra di noi ci autotassiamo questa parola piace tanto a tutti quanti ci chiamiamo la colletta che è meglio è bella detta in dialetto per cui l'invito ormai è stato fatto spero che lo Sluo che purtroppo non vedo si faccia da portacoce con la società col presidente lo aspettiamo a braccia aperta naturalmente però faccio una precisazione la contestazione dura lo stesso continua lo stesso l'incontro è perché bisogna guardarsi in faccia non perché bisogna cessare la contestazione come fai a far cessare una contestazione il malcontento della gente se lui la prima cosa che fa fanno un incontro con un imprenditore che vuole rilevare l'Avellino questo imprenditore rende pubblici in pratica tutti quanti gli importi dei debiti e lui che cosa fa? attacca la curva attacca la curva e ci attacca sul comunicato dicendo che noi non mettiamo la faccia e mi pongo una domanda e la pongo pure a voi e la vorrei porre pure al signor Taccone ma come una settimana fa il comunicato le è servito da monito le serviva perché in pratica ha risvegliato i giocatori avete preso coscienza che forse la curva aveva ragione e oggi in momenti ci dici che siamo degli infami che ci nascondiamo dietro a un comunicato allora due sono le cose o sei un bipolare oppure strumentalizzi le parole a tuo modo consumo e piacere a te la scelta per il bipolarismo c'è un medico e ti può aiutare se sei un esperto per l'altra cosa che ci ha detto è grave secondo me per cui lo ripeto l'invito è stato fatto noi a questo punto speriamo che il signor Taccone voglia accogliere il nostro invito a braccio aperto come lo accoglieremo noi invitiamo tutti quanti i giornalisti anche oggi saremo presenti a Frosinone come sempre il nostro apporto per questa maglia non mancherà mai speriamo solamente di fare una cosa che questa violenza che ci siamo fatti sia servita a risvegliare le coscienze le coscienze di tutti quanti noi perché io penso che l'US Avellino è vero che è una società ma le società di calcio hanno un aspetto diverso da una vera e propria società solo le società di calcio sono un patrimonio di tutta quanta la provincia sono un patrimonio di tutti quanti i tifosi non possono essere diciamo gestite in maniera proprio privata e di nascosto non possiamo continuare a subire in pratica i suoi modi non possiamo accettare che il 24 ottobre lui firma un atto di cessione e per 20 giorni ci prende in giro facendo interviste anche con voi giornalisti dicendovi che cosa non so se gliele vendono gliele ho vendute e non lo so queste tarantelle sono un'offesa alla nostra intelligenza queste tarantelle e lo dico a voi a dette lavori sono un'offesa per voi ragazzi veramente è offensivo quello che fa è offensivo perché non si possono fare queste tarantelle e in quest'ottica Taccone lo conosciamo allora e vabbè lo mettiamo da parte ma Ferullo ragazzi come si è presentato cioè noi lo abbiamo etichettato come un coglione oddio ti voglio trattare meglio ti voglio chiamare burattino allora Taccone il burattinaio e lui il burattino c'è una persona che entra in società si fa manipolare in questa maniera da socio e come si presenta da vellino come un burattino Ferullo è meglio che resta a casa io vi ringrazio forza vellino passo la parola magari a Franco vuoi dire qualcosa? sì allora passo la parola a Franco e grazie a tutti noi stiamo qua per tirare per non tirare la cordata a nessuno né a Taccone né a Gubituse né agli altri noi quello che chiediamo ai tifosi in questo momento particolare di stare tutti quanti uniti perché quando abbiamo unito le componenti sia noi sia voi giornalisti sia i tifosi abbiamo ottenuto sempre dei grossi risultati e questo lo dobbiamo fare in questo momento particolare perché non vogliamo creare né alibi né ai giocatori né all'allenatore quindi dobbiamo far capire che noi siamo uniti siamo pronti a qualsiasi battaglia per questa maglia per questi colori poi vorrei ricordare un'altra cosa voi non vi dimenticate che il logo è nostro e di noi i tifosi quindi anche su questo dobbiamo stare tranquilli io sono convinto che a più presto si sorverà questo problema per bene un pochettino di tutti vi ringrazio a tutti ridici grazie a tutti